Un balzo in avanti importante per quello che riguarda i contagi da Covid-19 in provincia di Arezzo. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi, secondo i dati della ASL Toscana Sud-Est, sono 107. In tutta la Sud-Est i nuovi positivi sono 228, 62 a Siena e 59 a Grosseto. I tamponi effettuati sono 732 in provincia di Arezzo e le persone ancora positive in carico sono 816. Si registrano 27 guarigioni e nessun decesso. Sotto il profilo dell'occupazione dei posti letto siamo a 11 pazienti nell'adegenza Covid e nessun paziente in terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo. Intanto nelle prossime ore sarà aperto il portale della Regione Toscana per poter prenotare il vaccino per i bambini nella fascia 5-11 anni. Intanto c'è da ricordare che saranno su base volontaria. Come coinvolgerete i pediatri? Allora, innanzitutto abbiamo coinvolto i pediatri ospedalieri che hanno dimostrato una grande sensibilità e che abbiamo anche ritorni positivi in analoghe campagne vaccinali che abbiamo fatto per classi di età immediatamente superiori. Perché il ruolo del pediatra nella vaccinazione dei piccoli è fondamentale nell'attività di coinvolgimento delle famiglie, di informazione e anche di accompagnamento dei piccoli durante la fase vaccinale. Sta per essere chiuso l'accordo con la pediatria di famiglia. Anche il ruolo della pediatria di famiglia è fondamentale. Se contiamo di coinvolgerli appieno, anche su questo la loro partecipazione volontaria, ma non dubito di una loro reale e importante disponibilità, loro potranno operare nei loro studi privati o meglio nei nostri hub dove siamo in grado di accoglierli, in percorsi dedicati. Quindi non accadrà che facciamo vaccinazioni 5-11 nello stesso orario e nello stesso hub insieme alla vaccinazione adulti.